Mamma mia che casino che abbiamo fatto Vabbè comunque bentornati sul mio canale e benvenuti in questo nuovo video Soprattutto in questo nuovo estratto di un post partita di The Corner Cioè su The Corner in cui vivremo un post partita Perché la gara in questione è Roma-Napoli È stata giocata il 7 febbraio, l'avete vista l'11 febbraio Poi avete visto tante altre cose in questi giorni E quindi come di consueto noi siamo qui con questo appuntamento Per analizzare un po' il post partita Parlare di calcio, di campo giocato proprio Che è la cosa più bella E poi ovviamente di tutti gli episodi paralleli correlati alla partita Che sono accaduti nelle ultime ore e che abbiamo vissuto insieme Purtroppo, per fortuna In attesa di che cosa? Della finale d'andata Juve contro Milan Ovviamente vi diremo dove si giocherà e quando si giocherà Per questo dovete seguirci su Instagram della YouTuber League Poi vi consiglio di seguirmi anche sul mio Instagram Perché sono molto simpatico E soprattutto oggi non sono vestito come Chiara Ferragni Visto che qualcuno nell'ultimo video, no? Bene E poi ovviamente iscrivetevi al canale se siete nuovi Altrimenti attivate la campanellina Per non perdervi i prossimi contenuti in uscita Tra cui appunto la finale d'andata Tra Juve e Milan Detto questo Allora, abbiamo vissuto l'altro ieri un post partita di Roma-Napoli Come vi dicevo su The Corner È una puntata ovviamente particolare In cui rispetto al solito si è parlato tanto anche di cose extra campo È uscito un video a riguardo Perché sono uscite sui social determinate cose Non mi ripeterò almeno in questo momento Perché la prima cosa da fare ovviamente è pensare Come detto prima al calcio giocato E quindi partiamo da lì Dal fatto che Pipeg ha presentato questa puntata In cui ci siamo un po' espressi Sul perché la partita sia finita in questo modo Con questo risultato Insomma, è stato comunque un match molto spettacolare E quello che è uscito sostanzialmente è questo E no, è stata una bella battaglia È stata veramente una bella battaglia Mi faccio tanti complimenti al Napoli Perché ha vinto una partita molto difficile In un clima che non era favorevole Spesso da questo punto di vista Lo diceva Mister Farta-Praga nel pre-partita Può diventare anche una pressione per chi la gioca in casa E comincerà a non essere un caso che tutte le squadre in casa hanno perso In questo girone d'andata Il Napoli, anche una squadra per esempio a Scampia con la Juve Aveva sofferto un pochino se vogliamo la pressione Oltre che la bravura della squadra avversaria Penso anche a Napoli-Milan Insomma, questa volta è toccato a noi Io penso che da un punto di vista prettamente di calcio giocato E gol, rimonte C'è stato grande divertimento Forse da quel punto di vista la partita più bella di questa prima parte di stagione Senza dubbio la più emozionante Cioè, da vista da fuori Poi da non persona che, insomma, era all'interno del match Siete stati tutti molto bravi Nel senso che si è percepito La tensione, si è percepita la sfida Fius lo sa perché ho fatto un vocale diretto al gruppo Whatsapp del Napoli Sono veramente contento per come hanno giocato Perché non erano tenuti a giocare così Magari all'inizio sì Perché c'era anche l'obiettivo di vincere con 5 gol di scarto Nel finale potevano rilassarsi E invece non l'hanno fatto Perché il loro obiettivo era giocare una partita in modo sportivo Quindi dando tutto A prescindere dal fatto che non potessero passare E io questa cosa l'ho apprezzata più di ogni altro fattore Fius lo sa E mi sono complimentato con lui E con tutto il Napoli Per questo, semplicemente Allora, a parte i 5 gol di scarto Che erano per noi sicuramente difficili E fondamentali allo stesso tempo Però eravamo lì anche per non fare una passeggiata Perché comunque abbiamo, tra virgolette, buttato una giornata Andando lì a Roma Quindi bruciava anche poi Non farli passare perché poi sembra brutto Ma perdere o pareggiare la partita Perché poi io penso che anche le partite di giovedì vanno vinte Le partite tra amici giovedì vanno vinte Vanno onorate Quindi poi, specialmente con il pubblico che c'era a Roma Con la pressione che avevano loro Con i fischi che c'erano a noi Giustamente, come è giusto che sia E il bruciore, cioè quel fuoco dentro Comunque di vice Quella partita non la devono vincere Allora, abbiamo fatto una bellissima partita Complimenti appunto anche al Napoli La partita in sé è stata molto, molto bella Cioè a un certo punto sembrava che qualsiasi squadra potesse segnare Cioè sono stati praticamente tutto l'inizio del secondo tempo Che ognuno poteva segnare E siamo stati un po' sfortunati Un po' spregoni Però il Napoli davanti a Simone Grisi Ma guarda, secondo me abbiamo gettato le basi Per le prossime partite Perché credo che sia stata una tra le più belle Che abbiamo giocato E a livello di emozioni Almeno io personalmente Metto questa partita di Roma Immediatamente dopo la partita di Scampia C'era veramente tanta tanta gente Tra l'altro ho apprezzato anche la presenza di Bove Che è comunque un calciatore di Serie A Lì al campo Quindi dai ti dà quella carica in più Mi è piaciuto molto Sai pure l'ingresso in campo rispetto alle altre volte Diverso C'era veramente una bella atmosfera Per quanto mi riguarda Io non sono contentissimo della partita Non tanto perché non abbiamo giocato bene Ma io Roma-Napoli la sentivo molto Anche perché mi sentivo un po' in colpa Dopo la Summer Cup Con quel rigore sbagliato Quindi avevo molta voglia di rivalse Soprattutto di portarla a casa Per arrivare in finale Non ce l'abbiamo fatta Però comunque contentissimo e fiero Dei miei compagni di squadra Perché abbiamo dato davvero tutto Come diceva anche Federico Come diceva anche Michi Ci siamo impegnati Abbiamo dato il 100% per me È la miglior partita che la Roma abbia fatto Da quando la YouTuber League è nata Quindi da un anno a questa parte E ci tenevo però anche Come hanno fatto Michi e Federico A fare i complimenti al Napoli Perché ha fatto una grande partita Da signora squadra Non ha tirato i reni in barca Pur potendolo fare Quindi non è che Si è accontentato del pareggio Ma ha provato fino alla fine A fare la sua di gara Portando a casa i tre punti E ci tenevo soprattutto A fare i complimenti Al mio avversario di reparto Sciale Perché è vero che loro hanno chiesto Però noi abbiamo anche Sergio Cruzzi Lui è stato secondo me Molto molto bravo Quindi volevo fargli complimenti D'avversario Grazie Io ho vissuto una partita Molto tosta Molto fisica E non me l'aspettavo Perché comunque Sergio Davanti Fa la differenza Pure Michele Nera Polla Mi ha messo in difficoltà Gli ho chiesto se vuole venire a giocare con noi Ma ha detto di sì Ma fa ma ha detto di sì Fantastico Grazie Complimenti Però mi sono divertito È stata È stata una bella partita È stata una partita Dai toni agonistici Molto alti Si è visto subito Penso sia stata anche una delle partite In cui ho munito di più Però sono contento In forma che i giocatori Non se le siano date a vicenda È stata una bella partita Anche da vedere Da dentro Con tanti cambi di fronte Dei pentini Due squadre equilibrate E molto Molto fisica Ma c'è una narrativa Che vede Un cross In mezzo Rasoterra Un giocatore Che da dietro arriva E con tutta la forza Colpisce il pallone Una narrativa diversa Racconta che quel pallone Si è entrato E che la Roma A quest'ora Sarebbe stata in finale Ma questa narrativa Non esiste Seek Wolf Ma diciamo che Allora Io Essendo che Sono stato lanciato attaccante Non dovevo Cioè dovevo fare gol Però non pensavo Che mi sarebbe mai capitato Un'occasione di questo tipo Quindi io ero lì Improntato sul fatto Che dovevo allungare la squadra E quindi continuavo ad allungare la squadra E visto che già era capitato Tre o quattro volte Che ero lì E la palla Non me la davano mai Ma giustamente Perché tra me e Cruz Mi chiede a Rapolla Perché la dai a me con la palla Mannaggia la macca Perché la te No sto scherzando chiaramente Non mi aspettavo mai Che mi arrivasse quella palla Poi Cruz va avanti La palla mi arriva a me Io calcio Poi non so Ma voi non ho tirato manco Con tutta la forza del mondo Tirato di piatto Leggero leggero La palla dovevo annalare Proprio Vedevo che si alzava Secondo dopo secondo Si alzava sempre Traversa piena Poi inevitabilmente Come Epifega ha detto Non mi ricordo che ha detto In realtà Avevo usato un termine figo Questo Io Staccherei proprio La testa dal manichino Perché alla fine Siamo qui anche a parlare Di situazioni Esatto Pippo grazie Insomma come ha detto lui Era inevitabile A un certo punto Parlare anche di quanto accaduto Era anche giusto Fare un confronto Dopo tante cose Che si sono dette E soprattutto Sono state interpretate Oltre al gesto in sé Che viene condannato Giustamente Del quale mi scuso ancora Come fatto anche in diretta Come però Ci ho tenuto a sottolineare Posso scusarmi Del gesto in sé E di poco altro Quindi questo è quello Che è uscito nel ragionamento Ti tengo a dire Fondamentalmente In modo anche telegrafico Che mi dispiace Perché chiedo scusa A chi ha visto E al diretto interessato Per aver fatto un gesto Che per quanto ci possa essere Agonismo Per quanto ci si possa tenere Alla causa Non è un gesto Giustificabile Né tantomeno Accettabile Non lo è Da organizzatore Non lo è Da giocatore Ma non lo è Non lo sarebbe stato Da parte di nessun altro Si potrebbero dire tante cose Avremo modo Certo Quindi per il momento Per il momento Mi limito Mi limito a dire Che mi dispiace Perché non è un gesto Che mi è mai capitato di fare Che mi appartiene Chi mi conosce Lo sa Però questo non toglie Che il gesto Io l'ho fatto E quindi me ne vergogno E la cosa più giusta In assoluto È che Deba scontare Una squalifica Ecco Parliamo anche di questo In accordo Con i capitani I giocatori Insomma Anche per mandare Un segnale Giusto Federico Non parteciperà Alla prossima partita Alla prossima Competizione Partita in realtà Della Della YouTuber League Della Roma Che ovviamente Ancora dovremo sapere Per via dei calendari Che poi verranno Verranno fatti Ma in ogni caso Federico Non parteciperà Come giocatore Parteciperà ovviamente Nell'evento Come organizzatore Ma non come giocatore Questo che sia chiaro Perché è giusto Anche che ci sia Questo segnale Noi non siamo Calciatori E cerchiamo di farlo All'interno dei contenuti Siamo performer E quindi come tali Possiamo sbagliare Sbagliano in serie A Dove prendono Milioni e milioni di euro Il brutto esempio Lo danno in serie A Dove prendono Milioni e milioni di euro Può capitare Che anche alla YouTuber League Questa cosa accade Questo non vuol dire Che per forza di cose Il messaggio Che deve passare Sia per forza quello E questo è il motivo Per il quale Determinate scene Ed è capitato Spesso Abbiamo i ragazzi del Napoli Sanno perfettamente Di cosa Di cosa stiamo parlando Quando c'è stato Juve Napoli Senza entrare nel dettaglio Ci sono state delle situazioni Che non fanno parte Del messaggio Che vuole raccontare La YouTuber League Perché la YouTuber League Racconta un messaggio Che non per forza È la realtà Di quello poi Che si vive È il bello Di fare YouTube Come sei arrivato A fare questa scelta Ma io sono d'accordo Con te Sul fatto che siamo tutti creators Che possiamo sbagliare Questa cosa non va dimenticata Perché io sbaglio Sbagliano i calciatori Eccetera eccetera Infatti non mi sono Cioè non ho mai detto niente Non mi sono mai lamentato Non ho fatto mai Video dedicati Perché nessuno È arrivato a fare quella cosa Cioè A ledere diciamo L'incolumità fisica Perché vabbè Non è che mi ha rotto il naso Parliamoci chiaro Però è stata una cosa Che ho sentito Che non mi era mai capitato Che magari neanche io Sapevo come gestire Proprio perché non mi è capitato Né nelle leghe di provincia Né in regione Ma solamente qua Per la prima volta Dopo un anno Da una persona che non mi aspettavo E quindi secondo me È una cosa Di cui bisogna parlare Ma anche per il bene stesso Della competizione Perché se si sta creando Un clima così ostico Tra giocatori Anche verso l'arbitro Abbiamo visto già Delle prime scelte Nobili Cioè quello dell'autosqualifica E sono sicuro che Dalla prossima volta Ci sarà un clima Molto più disteso Cioè secondo me È stato anche un messaggio Proattivo A guardare verso il futuro Di questa competizione Perché se uno sta sempre zitto E poi i video non vengono fuori Sarà sempre peggio Secondo me Partita dopo partita Secondo me In privato A prescindere Non sarebbe bastato Perché sarebbe magari Rimasta tra me E lui E forse qualche calciatore Che ha visto E si è reso conto Sarebbe rimasta Probabilmente tra i calciatori Della Roma E tra i calciatori del Napoli Questo qui è un clima Che denunciamo Da diverse partite Per cui Fede Si è sempre battuto Sul fatto di non fare i cori Contro l'altra squadra Sul fatto di non fare i cori Contro di me Che tutti possiamo sbagliare Quindi secondo me Anche se ci fosse stato Un confronto privato La cosa sarebbe stata Resa pubblica A prescindere Io rispondo al gesto Che ho fatto Prendendo le conseguenze Di quel gesto Come un chiaro errore Non posso rispondere A chi generalizza Un gesto Parlando di persona Quindi andando oltre Non posso rispondere A chi Pensa Che quel gesto Non sia stato nel video Soltanto per tutelare Me stesso Perché tutti i presenti Di questa diretta E sottolineo Tutti Conoscono La modalità Di montaggio Di questo format E le scene Che sono tagliate In ogni partita Quindi io rispondo Al mio gesto Ed è per quello Che mi scuso Tutto il resto Francamente Preferisco non esprimermi L'unica cosa Che però Voglio dire Se mi permettete Ad Ale Che non mi è piaciuto Tanto il suo Atteggiamento Proprio Di mettere Cioè secondo me Lui ha messo Al primo posto L'aspetto Da content creator In questo caso E non quello umano E questa cosa Diciamo secondo me Non è stata molto Bella Cioè lui ha messo Proprio davanti Il lavoro E il content Perché Lo dico proprio Con tutta sincerità Non è per fare Polemica o altro Però poteva magari Lanciare un messaggio Positivo Attraverso i suoi social Visto che appunto Nel video Si vedeva anche La clip in cui L'avevo spinto Avevo fatto quel gesto Della maglia Ma aveva munito E quindi lanciare Anche un messaggio positivo Nel senso di magari Dire che Claudio Aveva mandato Le scuole in privato L'aveva contattato E invece piuttosto Che parlare Di una clip Che non c'era Di Federico Perché era consapevole Che avrebbe fatto Molto più hype Brutti Vantaggiosi Diciamolo così No Cioè In senso Non sono d'accordo Poteva farlo Federico Come poteva farlo Fuse Come poteva farlo Sciale Come poteva farlo chiunque Quello episodio specifico Cioè non ci ho visto Nessun vantaggio Anzi Ho cercato di Tutelare Non mettendo La clip non oscurata Su TikTok Dove può girare Tra due mesi Fare un milione Di visualizzazioni Per cui il lato Vantaggioso Insomma Ah boh Di fatto Quindi mila Follower su Instagram Quanti ne ha fatti Oh se ne ha fatta Almeno 20 mili Sto bastardo No non poteva saperlo Ma in che senso Cioè Fammi capire Non ho Non ho seguito io Io poi mi sono concentrato Su altro In che senso Ho fatto 20 mila Cioè da TikTok Corre mind Che senso Cioè da TikTok Hai rimandato a Instagram Sì Ho detto Ragazzi lo metto 24 ore Perché va mostrato Chi lo vede bene E chi non No Vabbè io onestamente Non posso pensare Che l'abbia fatto per hype Perché non gli farebbe onore Come persona Quindi Mi fido della sua buona fede Ti ringrazio Sì insomma In diretta mi è venuto spontaneo Dire questa cosa qua È chiaro che se uniamo i puntini Arbitri Non è che ne usciamo pulitissimi Proviamo un attimo a capire Hai deciso di denunciare il fatto Facendo un TikTok Che rimandava ad Instagram Alle storie di Instagram Nello specifico Poi hai chiuso il profilo E quindi una persona per vedere le storie Doveva per forza seguirti So che non ci hai pensato Ci mancherebbe altro Però è così che funziona purtroppo Da un punto di vista comunicativo Hai fatto passare il messaggio Che tutti i gesti Vengono lasciati All'interno dei video Della YouTuber League E soltanto questo Per un discorso mio Di essere paraculo È stato tagliato Quando tu sei il primo A sapere che non è così Sei dentro la YouTuber League Da più di un anno Sai benissimo come funzionano Alcune dinamiche Ti sei quindi preoccupato più Di farmi passare Per qualcosa che non sono Nei giorni successivi Che di denunciare il gesto In sé Molto brutto E che sono stato il primo A condannare E per il quale ti ripeto Tavo anche chiamato Ma non hai risposto al telefono E poi hai mancato anche Un pochino di rispetto All'organizzazione Che ripeto Non è composta solo da me Cioè io non mi sono Autosqualificato Cioè c'è un Tutta una serie di ragazzi Che lavorano Dietro alla YouTuber League Ai quali hai mancato di rispetto Facendo passare il messaggio Che non sei mai stato tutelato E che questo è un ambiente tossico All'interno del quale Non ti dovi bene Insomma Secondo me Secondo me non è Che si poteva fare Un pochino meglio No? Che dici? Però insomma Di messaggi ne ho letti tanti In questi giorni Vi ho spiegato tranquillamente In italiano E tranquillamente con trasparenza In un video apposito Come sono andate le cose Ora io capisco Che possiate Crederci relativamente Purtroppo non mi interessa Perché vedete Io da quando Respiro Prima ancora di fare video su YouTube Sono sempre stato abituato A essere trasparente A mettere I valori umani Di fronte a qualsiasi altra cosa Quindi le persone Che fanno parte Della YouTuber League Compreso Arbitrino E tutte le altre persone Al di fuori Della YouTuber League Che mi conoscono E con le quali ho un rapporto Sanno benissimo Che tipo di persona sono Sanno che è stato Un gesto brutto Che è giusto però Far rimanere soltanto A un gesto Perché subito Mi sono assunto Le mie responsabilità Tutte le altre Cazzate Che si sono lette E che avete scritto Molti di voi Hanno scritto in questi giorni Restano appunto Cazzate Alle quali Permettetemi di dire Che do un peso Molto 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 Poco rilevante All'interno Proprio del Del mio Stato d'animo Quindi Soltanto questo Io credo di aver sbagliato E di essermi assunto Le mie responsabilità Nonostante qualcuno Si sia divertito A darmi del piccolo uomo Ripeto Alla fine La cosa che conta di più È cosa lasci Da un punto di vista umano Nelle persone che frequenti Nelle persone che ti stanno vicino E quindi Tempo al tempo Tranquilli Da questo punto di vista Vi ho sempre dimostrato Chi sono Senza dover curare un'immagine Fare paraculate O altre stronzate simili E continuerò a farlo E ripeto Tempo al tempo Poi ovviamente Se qualcuno Che non è tenuto Tra di voi Figuratevi A conoscere bene Le situazioni Ad avere un quadro generale Eccetera eccetera Si sente però Arrogante al punto giusto Moralista al punto giusto Paladino della giustizia Al punto giusto Per dare giudizi Che sparano a zero Su qualcun altro Io sono molto contento Per voi Perché insomma Non è una novità Quindi figuratevi Se si può lamentare Marconi Dessa cosa Quando è il mondo Che funziona così Un bacione ragazzi Never give up Ricordatevelo A presto Grazie a tutti